miei cari ben ritrovati sul mio canale allora quest'oggi come vedete qui di fronte a voi avete queste carinissime mattonelle che oggi andremo a fare insieme vi anticipo che sarà vi servirà per il prossimo progetto che ho in mente di fare quindi realizzeremo questo e poi successivamente il mio progetto finale questa mattonella la potete creare per tantissime cose per cappelli per coprispalle per dei centrini magari unirle tra tra di loro in modo obliquo in modo orizzontale verticale insomma come volete potete crearci delle sciarpe coprispalle centro tavola cappelli veramente le potete usare per tanto e anche per delle borse e diciamo che vi anticipo già qualcosina dicendo borse allora ogni mattonella misura circa 15 centimetri tenete conto che poi il filato va a cedere quindi sono quasi 15 centimetri cosa vi volevo dire io ho inventato un modo per poter tenere larghe non le mie mattonelle perché quando le andiamo a lavorare dopo un po si arricciano vi faccio vedere subito come allora ho preso un semplice telaietto questo che serve per fare le mattonelle con la lana magari poi faremo un video non sono molto brava in questo ma mi piace molto la tecnica cosa ho fatto preso semplicemente una mattonella e ho fatto tenete conto che queste questo è un telaietto per fare delle mattonelle con il punto nodo diciamo no quindi non è il proprio stato creato per fissare le mattonelle ma ci sono in giro dei telaietti simili che sono proprio per dare forma alle nostre mattonelle vi metterò poi giù nelle box info il link io ho adattato questo guardate semplicemente ho preso la misura della mattonella e ho fissato questi chiodini di legno in questo modo poi sono andata a cercare di mettere un archetto all'interno di questi nodini guardate qui ecco qua facciamo anche l'altro lato e ho poi posizionato man mano che andavo a creare le mie mattonelle le ho messe in questo una sopra l'altra in modo tale che rimanga comunque una forma abbastanza tirata guardate vi ripeto questo non è adatto proprio per le mattonelle cercherò di ritrovare quel link perché lo vorrei acquistare questo tipo di telaietto è molto comodo lo potete usare per le mattonelle tonde per quelle quadrate anziché metterne la busta e poi si vanno nuovamente ad arricciare le potete mettere in questo modo ed è veramente anche molto utile allora iniziamo il nostro progetto molto facile molto veloce e poi nel secondo video vi svelerò la creazione che andiamo che andiamo a fare insieme per la nostra mattonella io userò tre tipi di colore il filato antibatterico ve lo lascerò giù nelle box info e come detto in altri video questo tipo di filato è ideale per creare vedete baby antibatterico per creare capi tipo cappelli indumenti magliette insomma qualcosa soprattutto per i più piccini è un filato molto morbido e molto lucido e anche un bel metraggio su 100 grammi sono 280 metri allora iniziamo il nostro lavoro con il giallo come prima cosa dobbiamo lavorare otto catenelle sposto il filato scusate quindi lavoriamo otto catenelle con l'uncinetto di 3 3,5 mm dipende sempre da come lavorate voi se avete una mano stretta una mano larga insomma dipende dalla da ognuno di noi 1 2 3 4 5 6 7 e 8 vado a chiudere nella prima catenelle lavorata e chiudo con una maglia bassissima il primo giro cosa si deve lavorare dobbiamo lavorare otto gruppetti appunto nocciolina ognuno formato da cinque maglie alte quindi sostituisco la prima con le tre catenelle e vado nuovamente a puntare nello stesso nella stessa maglia di base quindi siamo 2 3 4 e 5 chiudiamo adesso il nostro punto nocciolina puntando sulle prime catenelle lavorate in questo punto qui e si chiude con una maglia bassissima lavoriamo tra un punto nocciolina e l'altro sempre una catenella questo che abbiamo fatto ora lo dobbiamo ripetere su ogni catenella sottostante quindi su ogni catenella lavorata si andranno a lavorare cinque maglie alte che poi andremo a chiudere tutte insieme qui non vuole passare il filo le chiuderemo insieme con una maglia bassissima come abbiamo fatto in questo caso quindi lavorate otto nocciolina nelle otto catenelle sottostanti e noi ci rivediamo una volta fatto tutte le nostre otto noccioline siccome è un ripetere di stesse maglie stessa lavorazione quindi inutili che vi faccio vedere fino alla fine ne facciamo un'altra insieme e poi procediamo fino alla fine del lavoro sono arrivata la quinta maglia la chiudo nuovamente puntando nella prima d'inizio chiudo e lavoro una catenella continuato in questo modo fino alla fine del giro io ho terminato il lavoro taglio il filo lo lascia leggermente più lungo per poterlo poi fissare e nascondere sulla parte retro del lavoro e vado a chiudere a maglie bassissima proprio qui nel primo piccolino lavorato tiro il filo e poi lo andiamo a nascondere sul retro del lavoro anche questo d'inizio adesso io continuo con il colore rosso anzi bordo in video sembra rosso ma in realtà è bordo cosa vado a fare semplicemente puntiamo in una delle catenelle lavorate qui vedete tra i gruppetti tra i punti nocciolini abbiamo fatto la catenella quindi punto in uno di questi di queste catenelle il lavoro la prima il cappietto diciamo di chiusura lavoro 3 catenelle anzi ne vado a fare due perché la prima vado l'ho fatta come punto di fissaggio e quindi conto quello per prima catenella e nuovamente vado a lavorare in ogni punto cioè in ogni punto nocciolina cinque maglie basse 3 4 la prima l'abbiamo sostituita come già sappiamo dalle catenelle e 5 chiudo nuovamente nello stesso identico modo puntando nella prima catenella e chiudo a maglie bassissima che ora nuovamente puntando sempre qui nella catenella sottostante spostiamo leggermente il filo lavoro una catenella e un altro gruppetto di 5 maglie alte per poter realizzare il prossimo punto nocciolina quindi nuovamente 1 2 3 4 4 e 5 e nuovamente punto nella prima maglia alta lavorate guardate 1 2 3 4 5 nella prima e chiudo nuovamente a maglia bassissima e qui c'è la catenella che abbiamo lavorato per separare i nostri due punti nocciolina nuovamente una catenella nei prossimi quindi a fianco tra uno e l'altro lavoriamo nuovamente due gruppetti di cinque maglie alte che poi chiuse insieme a maglia bassissima formeranno il nostro punto nocciolina siamo 3 4 e 5 chiudiamo una catenella e nuovamente sempre qui nello stesso punto di base spostiamo leggermente le maglie e lavoriamo altri cinque maglie alte che chiuderemo nuovamente insieme per formare il nostro pippiolino da il nostro punto nocciolina scusate e 5 chiudiamo insieme e continuerete a fare questo lavoro fino ad arrivare alla fine del giro separando sempre un pippiolino e l'altro con una catenella quindi continuiamo fino alla fine del giro allora i miei cari io ho terminato il giro e concludo con una catenella e punto qui dove abbiamo oppure qui dove volete dove abbiamo realizzato il primo petolo e chiudo a maglia bassissima allora vi volevo dire una cosa se avete voglia di fare questo lavoro e ottenere diciamo dei petali di fiore leggermente più alti più distanziati potete lavorare anziché la maglia alta la doppia maglia alta anziché di una catenella di separazione ne potete fare due e vi uscirà un fiore leggermente più largo meno appiccicoso diciamo a me piace sinceramente così è questo il modello che voglio avere e quindi lo lascerò così questo è un consiglio che vi do un'alternativa a ciò che potete fare allora i miei cari adesso andiamo e facciamo la parte esterna un'altra cosa se volete ingrandire ancor di più il vostro fiore proseguite nello stesso nella stessa maniera quindi lavorando sempre due pippiolini sulla catenella tra la catenella sottostante e potete poi aumentare logicamente anche le catenelle di separazione come già detto ne potete fare due e man mano che poi lavorate andate a vedere insomma il risultato finale potete farne sulla prima due magari fare due giri con due catenelle un giro con tre insomma fate la prova e vedete voi un pochettino come volete continuare come sempre i fili poi andiamo a nascondere e io ora vado a continuare il mio lavoro con il filato a nero che sto cercando di eccolo qui di cacciare andiamo a puntare in un punto qualsiasi dove vogliamo scusate sempre tra i punti nocciolina e andiamo a lavorare io faccio sempre il punto di fissaggio quindi il primo punto prendendo anche il filo d'inizio e lavorando una catenella logicamente poi lo andrete a fissare successivamente adesso lavoriamo una catenella più altre due una e due nello stesso punto di base quindi qui sottostante andiamo a lavorare un'altra maglia alta 2 catenelle di separazione e nuovamente nello stesso punto di base altre due maglie alte solo lavorando gli angoli perché questo è il primo angolo che noi stiamo realizzando insieme solo negli angoli si lavorano due catenelle mentre per il resto se ne lavorano solamente una vi faccio vedere subito quindi andiamo a fare una catenella nei prossimi tra i prossimi punti nocciolina andiamo a lavorare due maglie alte 1 e 2 1 catenella di separazione tra i prossimi punti nocciolina nuovamente due maglie alte 1 e 2 ok vedete è così inizia a prendere forma una catenella e nuovamente due punti alti della catenella di base 1 e 2 ho preso male il filo e 2 e abbiamo lavorato così il primo angolo 1 2 3 gruppetti di 2 maglie alte e adesso andiamo a fare nuovamente un altro angolo quindi qui in questo punto andiamo a lavorare due maglie alte 1 e 2 2 catenelle 1 e 2 e nuovamente due maglie alte 1 e 2 va bene quindi questo si andrà a ripetere per tutto il giro nuovamente lavoriamo tre gruppetti di 2 maglie alte separate tra di loro con una catenella e poi andiamo a lavorare due gruppetti di 2 maglie alte 2 catenelle 2 maglie alte sempre nella parte sottostante del lavoro ecco qui mi caro terminato lavoro la mia catenella e l'ultima maglia la vado a fare sulla prima maglia alta lavorata in questo punto chiudo maglie bassissima ora per ingrandire il nostro lavoro a un'altra cosa vi volevo dire se aumentate logicamente giri aumenteranno anche i petali dei nostri fiori quindi dovrete sempre dividerli per 4 dovete calcolare gli angoli e poi le maglie i gruppetti qui al centro andranno poi sempre a crescere anche se lo fate nello stesso modo e volete solo crescere la mattonella basterà aumentare così come faremo adesso in questo giro perché se adesso abbiamo tre gruppetti di due maglie alte nel prossimo ce ne ritroveremo con 4 poi con 5 poi con 6 e andrà a crescere solo questa parte quindi la parte nera da questo giro in poi la lavorazione è sempre lo stesso non cambia nulla cambieranno solamente come appena detto i gruppetti qui al centro che si andranno a formare perché man mano andiamo a crescere il lavoro quindi passiamo a maglia bassissima in questo punto dove ci sono le due catenelle lavoro una maglia bassa più due catenelle che sostituiscono la prima maglia alta che lavoro nuovamente una maglia alta 2 catenelle di separazione e nuovamente 2 maglie alte sempre qui nelle due catenelle sottostanti una catenella e qui sulle catenelle sottostanti andiamo lavorare nuovamente il nostro gruppetto di 2 maglie alte che una catenella nuovamente gruppetto di 2 maglie alte sempre sulle catenelle sottostanti una catenella gruppetto di 2 maglie alte una catenelle gruppetto di 2 maglie alte 1 e 2 e vi faccio vedere il crescere della mattonella cosa intendevo gli angoli rimarranno sempre uguali mentre nella mattonella sottostanti abbiamo 123 gruppetti di 2 maglie alte divise da una catenella nel giro successivo abbiamo 123 e 4 gruppetti di 2 maglie alte suddivise tra di loro con una catenella quindi questo sarà il crescere del lavoro cresceranno si allargheranno i gruppetti di 2 maglie alte nuovamente una catenella e 2 maglie alte 2 catenelle e 2 maglie alte sempre nello stesso punto sottostante 1 e 2 va bene quindi farete questo lavoro tanto grande quanto piace a voi io andrò a realizzare credo sui quattro giri non e poi vi faccio vedere il risultato e la rifinitura che vado a fare io ecco qua mi cari io ho terminato la mia mattonella e ho realizzato uno due tre e quattro file di maglie alte adesso cosa dobbiamo fare semplicemente rivestire ogni mattonella io lo vado a rivestire con il felto prendo semplicemente il materiale ci appoggio sulla mattonella taglio fino all'ultima fila quindi non conto la parte esterna perché poi la faccio leggermente tra queste maglie e la maglia bassa fino a questo punto vi faccio vedere da vicino quindi non fino all'esterno ma fin qui in modo tale da poter cuscire tutti i lati e avere poi una mattonella abbastanza stabile e poi vi faccio vedere come unire tutte e quattro le mattonelle io le andrò a fare non so vediamo un po le faccio similo cambio colore via un pochettino comunque la grandezza deve essere uguale per tutte e quattro terminato i miei quattro pezzi le mie quattro mattonelle vi volevo dire anche la parte finale come sono andata a lavorarla io prendo un uncinetto così vi faccio vedere allora ho semplicemente terminato l'ultimo giro del mio lavoro guardate facendo una maglia bassa sulla catenella sottostante una maglia bassa su ogni maglia bassa sottostante e nell'angolo dove c'erano le due catenelle ho lavorato 1 2 e 3 maglie basse e questo l'ho fatto per tutto il giro ora dobbiamo unire le nostre mattonella in che modo dobbiamo per creare il nostro lavoro unirla vi faccio vedere queste due insieme perché ho fatto lo stesso colore sia sul davanti che sul retro queste verranno poi piegate unite qui in questo modo il lato opposto va fatto nello stesso identico modo ed ecco qui che già abbiamo creato la forma del nostro marsupio abbiamo poi bisogno del filato nero nel mio caso perché lo andrò a rifinire con l'uncinetto con lo gestione c'è se l'uncinetto non c'è il proprio Sweo va bene 개를